Fran Antonio Belpiede, procuratore generale dell'Ordine dei Frati Cappuccini, giurista, docente di diritto canonico, direttore della rivista L'Amico del Terziario, la rivista più antica della provincia religiosa dei Frati Cappuccini di Foggia. Abbiamo deciso di darci del tu, tu come ti presenteresti? Le cose che faccio le hai già dette in maniera sintetica ma è greggia. Io mi presento come un frate di questa provincia di Sant'Angelo, che sarebbe San Michele Arcangelo, che ci guarda dall'alto del Monte Gargano e di Padre Pio, un frate che questa provincia ha dato per servizio alla Cuglia Generale. Lavoro accanto al Ministro Generale, Fra Mauro Iori, che per noi è il successore di San Francesco, e faccio il lavoro di procuratore generale lì. Ecco, quando uno sente la parola procuratore, normalmente non si aspetta di vedere un frate. Aiutaci a capire il delicato compito del procuratore generale dell'ordine. Ma è stato un grande giurista italiano negli anni 30, Santi Romano, che definì gli ordinamenti giuridici, che sono plurali. La Chiesa Cattolica è un ordinamento giuridico, essendo composta di tanta gente, di laici, di chierici, di religiosi e religiose. Ci vuole qualcuno che applichi l'ordinamento giuridico per l'ordine dei Cappuccini e per ogni ordine religioso. C'è un procuratore generale che è colui che mette in relazione le eventuali problematiche giuridiche di singoli frati o di provincia o dell'ordine intero, fra di loro, e nella connessione giuridica con la Santa Sede. Quindi, in pratica, tutte le domande di dispensa, i permessi, le cose o problemi di organizzazione dell'ordine, di studio anche delle costituzioni e di miglioramento dei testi legislativi nel tempo, e tutto quello che deve andare alla Santa Sede per la decisione, sia per processi penali, sia per richieste di carattere amministrativo, passa attraverso l'ufficio del procuratore generale. Quindi un lavoro complesso, complesso e complicato, ma facciamo dei passi indietro nel tempo, andiamo all'origine, possiamo dire così. Quando si parla di vocazione ci sono tanti sentimenti in ballo, ce n'è uno però di cui si parla non tanto, e che invece mi piacerebbe approfondire di più, ovvero il sentimento della paura. Tu hai avuto paura quando dovevi dire sì? Ma è una bella domanda, se mi posso permettere. Prendiamo l'inizio del libro dei profeti Isaia, il capitolo 7, c'è la vocazione di Isaia, e lui, questo profeta, questo ragazzo che diventerà il profeta della trascendenza di Dio, il Dio altissimo, ha una visione che, come capita spesso nelle varie vocazioni, è una visione chiave, cioè spiega tutto il decorso della sua vita e anche i contenuti della sua predicazione profetica. Lui vede Dio altissimo, circondato da Cherubini e Serafini, con incenso, un bracere che emana, incensi, vapori ardenti, e lui dice sono perduto perché i miei occhi hanno visto il Dio altissimo, anche se io sono un peccatore, appartengo a un popolo di peccatori. Una volta si dice per il santo timore di Dio, questo è il timore di Dio, quindi anche dovendo seguire o volendo seguire Dio, perché si sente questo innamoramento per qualcuno che non è visibile come una bella ragazza, come un bel ragazzo, ma che ti sta innamorando, quando segui hai timore, anche nell'innamoramento umano, normale c'è timore, quando ci si innamora si ha paura di perdersi, c'è sempre la componente del timore e c'è anche la vocazione, però poi passa, poi ritorna, poi ripassa, secondo la unica biografia di ciascuno. Se dovessi definire in due minuti che cos'è il francescanesimo, che cosa è stato e che significa viverlo oggi? Meno di due minuti, anche se Cicerone diceva che definizio è solo un particola veritatis, la definizione è solo una piccola parte della verità. Il francescanesimo è l'utopia poetica di un uomo che ha detto che vivere il Vangelo è possibile per tutti, vivere il Vangelo di Gesù Cristo, tutti quanti, in tutti gli stati di vita, non alcuni eletti come frati e suore o i preti, tutti quanti sono eletti per la vocazione cristiana, per il battesimo, a vivere seriamente il Vangelo di Gesù. Ed è possibile, ed è gioioso e porta letizia e pace. San Francesco, dopo di lui San Pio, hanno consegnato a voi con fratelli una straordinaria e importante eredità spirituale. Qual è l'eredità più grande che tu senti di portare della spiritualità di San Pio? San Pio ha versato il suo sangue. Le stimmate di Padre Pio, che sono quelle di Francesco, che sono quelle di Gesù Cristo, sono le cinque lettere rosse dell'alfabeto della nuova evangelizzazione. Sono convinto che dobbiamo tornare alla contemplazione della croce per tradurla nel linguaggio del nostro tempo. Siamo soffocati da linguaggi falsi, linguaggi forvianti, da un'antropologia terribile. Siamo soffocati dalla seduzione del gender, del cambio di sesso, del cambio semantico, genitore 1 e genitore 2, anziché, così si dice già in diversi paesi del nord Europa, anziché papà e mamma, che sono le parole più belle del mondo in tutte le lingue. Ebbene, le cinque lettere delle piaghe del Signore, riprodotte nel corpo di Padre Pio, sono l'alfabeto essenziale della nuova evangelizzazione, di riportare l'umanità a una vita migliore di quella che alcune agenzie molto interessate, i potenti della terra, lobby, deprecabili, stanno portando avanti. Alla prossima domanda è già risposta in qualche modo quando parlavamo del francescanesimo, però approfondiamo ancora di più questo concetto, testimoniare il Vangelo. Noi laici, tu lo ricordavi giustamente prima, spesso pensiamo che sia compito solo dei religiosi, che sia qualcosa che riguardi appunto pochi eletti, mentre dovrebbe rappresentare le basi concrete del nostro vivere quotidiano. In che modo? La grandezza di Francesco, nella grandezza di Francesco, c'è appunto aver capito che tutti possono vivere il Vangelo. È stato lui a fondare il Terzius Ordo, e cioè dopo i frati e le suore, con Chiara e le Clarisse, a fondare il Terzo Ordine Francescano, oggi Ordine Francescano Secolare. Per cui rispondo alla tua domanda, partendo dalla regola di vita che attraverso i secoli è giunta fino all'ultima redazione, quella del grande Papa Paolo VI del 78, al Terzo Ordine Francescano. Ma che vale come paradigma francescano per chiunque voglia seguire questo? I laici sono gli animatori, e questo è il concilio, delle realtà animatori e ordinatori, dice il concilio, delle realtà temporali secondo Dio. Non tocca ai chierici, non tocca ai religiosi e alle religiose fare politica, fare sindacato, fare economia, fare imprenditoria, mettere strutture di produzione e di distribuzione eque, che facciano lavorare molti, per equare i salari. Ancora ieri l'Istat diceva che in Italia pare che ci sia una crescita, però aumenta la forbice fra i diversi strati sociali. Tocca ai laici soprattutto fare politica, che è una virtù nobile, un'azione nobile. Paolo VI ancora, lo cito, diceva che la politica è la forma più alta di carità. Questa è, dopo loro, un progresso, 1967. Quante cose che devono fare i laici? Ne ho dette parecchie. Se facessero la metà saremo già in un mondo migliore. La Chiesa si sta interrogando tanto su questo tema, cioè proprio sulla necessità dei cattolici di partecipare più attivamente alla vita della società. Tu hai citato Paolo VI, io adesso invece cito te. Una Chiesa alleata dello Stato nella gestione delle emergenze non può chiudersi in sacrestia quando c'è da progettare strategie per risolvere i problemi. Questo lo dicevo contro un certo massimalismo laicista di alcuni settori della politica italiana che dicevano che una Chiesa non deve parlare sugli emigranti, non deve parlare su questa gente che attraversa il mare e viene in Italia. Allora mi sono stizzito e ho detto scusate, si sappia che tutti i prefetti d'Italia o quelli interessati dai flussi migratori, quando arriva un barcone di questi poveracci, dopo il 100 prima accoglienza, dove li mettono? Chiamano i provinciali di ordine religiosi, chiamano i vescovi, chiamano i parroci e chiedono aiuto. E la Chiesa Cattolica agisce in cooperazione con i prefetti dello Stato italiano, come ha fatto sempre, lealmente, con uno sguardo di grande carità verso queste persone e anche di grande collaborazione, fra virgolette, in senso civico, anche non in senso dei voti religiosi, in obbedienza anche a quanto richiedono a volte delle autorità che sono veramente sgomente di fronte alla dimensione del fenomeno. Allora non si può dire un giorno ho bisogno di te Chiesa Cattolica e il giorno dopo dire no, i vescovi stiano al posto loro, i parroci stiano nelle sagrestie. Questo è un massimalismo che non posso accettare né io né credo tutta la Chiesa. Hai dedicato un tuo editoriale a Paola Clemente, una donna pugliese di Taranto, morta di fatica il 13 luglio del 2015. Mentre lavorava nei campi di un'azienda agricola, il marito denunciò che la moglie percepiva 27 euro al giorno per 12 ore di lavoro. Dopo questa morte è emerso con ancora più forza il dramma del caporalato. Oggi abbiamo finalmente una legge che lo combatte e appunto lo riconosce. Nello stesso editoriale tu hai scritto intanto penso ai tanti giovani laureati che conosco che prestano lavoro non pagato nel grande studio professionale. Non solo per fare la pratica e diventare avvocato o commercialista, ma anche dopo si lavora per salari indegni che non permettono di vivere. Molti scappano, molti restano, scivolando talvolta in una depressione da bassa autostima che toglie energie vitali al tessuto sociale oltre a mortificare le persone. Anche qui c'è chi si arricchisce sfruttando il lavoro degli altri. Penso ancora alle parole di Gesù nel Vangelo. Se trattano così il legno verde che ne sarà del legno secco. È così. A questo paese manca la grande politica. E questo è il tema di prima. Manca della gente nuova, della generazione di persone capaci e oneste che facciano politica. Le scatole, i corridoi dello smistamento politico compresa la nuova legge elettorale che riporta il proporzionale che non risolverà nulla contribuirà a mantenere la confusione in Italia. Ecco, tutta questa politica dovrebbe prendersi cura di questi grandi problemi. Io sono fiero di venire da Cerignola che è la città di Giuseppe di Vittorio che è probabilmente il più grande sindacalista che questa nazione abbia mai espresso. E che era un uomo che ha imparato con fatica a leggere e scrivere scrivendo su un muro di una casetta di campagna durante la pausa era un piccolo bracciante anche lui e imparando questi segni grafici con l'Italia di giornali e poi con qualche precettore benevolo e poi diventando deputato alla Costituente fondatore della CGL e così via. Allora, non è possibile che nel 2017, quasi 2018 noi assistiamo a fenomeni come Caporalato perché questi sono cittadini italiani sfruttati come cani indegnamente da qualche parte si è fatto uno sbrindellamento e si è divorata pezzo dopo pezzo la legge 300 del 70 cioè il cosiddetto Statuto dei Lavoratori stiamo tornando indietro e ci sono sempre meno ricchi e sempre più poveri ma non c'è una grande politica che si occupi di questo. Il secondo fattore è la perdita proprio di risorse umane straordinarie ieri a Foggia un papà mi diceva che il suo figliolo laureato brillantemente ha detto anziché fare il praticantato presso un commercialista che mi darà 100 euro al mese 200 euro al mese queste sono le tariffe di Foggia dintorni dalla Puglia del sud in genere vado in Australia ed è partito e 9 su 10 forse 10 su 10 conosco pugliesi che stanno in Australia faccio parte del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo che è una istituzione della regione Puglia quello resterà lì sono tanti i cervelli italiani che se ne vanno perché questo paese non promuove il merito questo paese non discele il merito questo paese se ne infischia altamente ancora nonostante la retorica del sud Italia e i nostri migliori giovani vanno via la globalizzazione la globalizzazione l'uso smisurato delle tecnologie portano con sé il rischio di un'alienazione dei sentimenti di una capacità di entrare in empatia con le persone il rischio di una perdita di una comunicazione vera ma qualche anno fa tu andavi in treno entravi in uno scompartimento da 6 persone per andare da Foggia a Milano per esempio e parlavi c'era sempre qualcuno che voleva parlare c'era la signora che ti offriva lo spuntino la mamma di famiglia vuole un panino e così via oggi non parla più nessuno sui treni sulle metropolitane la gente ha degli auricolari pensa al suo mondo a una persona amata o a problema di famiglia agli studi o al lavoro che non c'è al suo mondo nessuno parla più tra l'altro questo ha facilitato anche molti incidenti vi ricordate quella fanciulla di 17-18 anni che ascoltava musica e ha attraversato i binari a Milano Centrale è stata spazzata via da questa terra come un fuscello delicato offerto al cielo ma il cielo non voleva quel sacrificio la relazione fra virgolette malata esagerata col mezzo mediatico ha portato alla morte questa povera fanciulla di cui non mi so bene il nome certamente il paradosso è che oggi abbiamo dei mezzi di comunicazione potentissimi ma non so quanto li sappiamo usare perché qual è la fonte della comunicazione è l'essere umano la bisogna tornare secondo me è un'antropologia di base e come dire umanizzare i mezzi anziché meccanizzare l'uomo è possibile questo? certo che è possibile se non si mette il profitto a primo posto se non si mette l'audience a primo posto se si mette la qualità dei programmi voi lo fate nel vostro piccolo nel nostro piccolo Padre Pio TV appartiene un po' a tutti noi nel cuore almeno e quindi è possibile farlo se si mettono le priorità al giusto posto è l'uomo che deve essere servito dai mezzi e non ha servito dai mezzi questo dogma dell'audience è esagerato abbiamo fake news parliamo ecco pare che l'hai detto sono giornalista anch'io no si parla di post-truthage di età della post-verità del dopo-verità si mettono in onda notizie molte volte non verificate questa non soltanto quando succede identifica una mancanza di ontologia da parte dei giornalisti che fanno questo ma identifica anche un potere economico che poi è quello che sostiene i grandi media nel mondo che ha esigenze di audience esigenze di soldi esigenze di insenzionisti pubblicitari allora tutto è mercificato anche la qualità della comunicazione interumana bisogna lottarci Benedetto XVI ci ha messo più volte in guardia sul pericolo del relativismo si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie ha affermato più volte quanti pericoli nasconde il pensiero dell'uomo di poter determinare in maniera assoluta ed egoistica la propria esistenza al centro del mondo non c'è l'uomo ma c'è la natura di cui fa parte l'uomo il concetto già greco di fiusis natura che è tornato in varie epoche storiche in vari discorsi filosofici è ancora fondamentale ci vogliono nove mesi per fare un bambino e non lo si può gestare in tre o quattro mesi o in due tre settimane è guai se ci si provasse i fiumi vanno da monte a valle e ci vogliono 24 ore per la rotazione della terra insomma tutto è predeterminato nella natura con una precisione che al tempo stesso è estremamente aperta direi estremamente poetica come francesco d'assisi aveva capito fare dei ragionamenti filosofici questo dice il papa con la sua maestria benedetto centrando tutto sull'uomo o meglio facendo dell'uomo il centro di tutto è ciò che porta alla proliferazione di filosofie dannose per l'uomo stesso perché l'uomo si trova nella relazione sana con la natura anzitutto se l'uomo sporca un corso d'acqua perché nel suo pensiero solipsistico dice che ha bisogno di fare di produrre qualcosa con quel corso d'acqua a farci l'industria e lo sporca bevendo quell'acqua l'uomo si ammalerà e morirà l'uomo deve ritornare a rispettare la natura e imitare la logica libera voglio dire logica che libera delle sue regole una volta durante un'omelia un sacerdote disse la fede è la scelta sempre più libera di un amore sempre più grande a me colpì molto questa definizione perché era un po' quello che sentivo è quello che sento la libertà e l'amore due elementi che ci fanno amare tantissimo la nostra religione la libertà l'amore che Dio ha per noi l'amore che noi abbiamo verso il Signore verso i fratelli la libertà e il rispetto anche delle libertà degli altri a volte però mi chiedo a noi cattolici a noi cristiani è concesso lo stesso rispetto perché sembra quasi che a volte ci venga chiesto di essere cristiani sotto voce quasi questo dipende da quello che dicevamo prima cioè una chiara identità e nessuna timidezza nel relazionarsi con gli altri che non la pensano come noi massimo rispetto per chiunque ma massimo rispetto anche per noi stessi poi l'amore è una realtà dinamica c'era questa medaglietta che qualche anno fa girava mi ricordo anche la dita che la produceva non la dico ti amo più di ieri e meno di domani ma c'è questo dinamismo in tutte le realtà umane e belle anche nella conoscenza anche nel perfezionamento tecnologico c'è questa evoluzione costante certamente nella relazione con Dio libertà e amore devono essere solo da coniugarsi essenzialmente non puoi amare Dio se non hai la libertà e se non sei libero non ami Dio del resto lui ha detto la verità vi farà liberi ha detto anche io sono via verità e vita per cui incontrare Gesù Cristo significa essere liberi di amarlo e di amare chiudiamo con una frase di Papa Francesco ricordatevi bene un cristiano è un uomo è una donna di gioia di gioia nel Signore un uomo è una donna di stupore beh un Papa che si chiama Francesco non può non citare con un sinonimo la perfetta Letizia gioia e Letizia sono sinonimi e Francesco parlava della perfetta Letizia anche delle situazioni meste della vita sempre portare alla gioia quanto allo stupore mi viene in mente perché lo usava spesso questa parola il santo vescovo in cui in corso il processo di beatificazione pugliese Terziario Francescano Torino Bello che parlava spesso dello stupore lo stupore è guardare la siepe del colle dell'infinito e immaginare l'infinito che è dietro e chiamarsi Giacomo Leopardi in questo caso e scrivere una delle poesie più belle di tutta la storia della letteratura italiana lo stupore è un'altra persona che si alza al mattino vede come ho visto io per 16 anni da Serra Capriola il sole che si leva dietro le isole Tremiti e scrive un'altra poesia meno famosa ma davanti a Dio e davanti all'essenza dell'umanità probabilmente anche bella lo stupore è la capacità di vedere la bellezza che ci circonda che spesso è mascherata soffocata inquinata da tante obietà mercantili noi chiudiamo sempre le nostre interviste con una foto anche tu ne hai portata una raccontacela beh questa foto rappresenta me con altri due frati della provincia etiopica da Addis Abeba e stiamo nel compound quindi nell'insieme di di un complesso scolastico che va dalle scuole elementari fino alla formazione universitaria che si trova nel centro di Addis Abeba proprio presso la cattedrale di Addis Abeba sono stato recentemente proprio nel mio ufficio di procuratore perché a volte facciamo formazione permanente ai superiori nel mondo e quindi sono stato in Africa e Addis Abeba e sono rimasto entusiasta di vedere il lavoro bellissimo che fanno questi la diocesi e i nostri religiosi assieme per la formazione delle nuove generazioni di cittadini etiopici di bambini o di adolescenti o di giovani che sono la nuova classe dirigente di questo grande paese grazie fra Antonio grazie per aver risposto alle nostre domande sempre un piacere poi siamo con parepio di bu siamo a casa grazie a tutti